Buonasera, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti chiediamo, Signore Gesù, di essere presenti in mezzo a noi. Abbiamo bisogno della Tua luce, della Tua guida. Vogliamo conoscere la Tua volontà. E ti chiediamo di illuminare ognuno di noi perché possiamo insieme scoprire un po' di più i Tuoi cammini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Buonasera, benvenuti in questa sala del Dicastero della Comunicazione che volentieri ospita tutti voi del Sinodo. Io faccio, come dire, un po' da, diciamo così, moderatore, ma non il moderatore. Vi chiederei di chi vuole fare delle domande a sua eminenza. Di alzare la mano, ci sta un microfono. E domande o proposte. Domande, proposte, qualsiasi cosa. Ecco, questo momento è un momento di ascolto reciproco. Magari dicendo anche alcuni li conosco e altri no, diciamo, chi siete? Ne raccogliamo tre per volta, dando poi la parola a sua eminenza. Non so se sua eminenza vuole prima dire qualcosa o partiamo direttamente ascoltandovi, che è la cosa, penso, per cui siamo qui. Quindi, diciamo, se alzate la mano c'è chi vi può passare il microfono. ne raccogliamo tre per volta e per tre per volta abbiamo un bel po' di tempo. Nessuno vuole rompere il ghiaccio? Se non avete domande e avete qualche esperienza da condividere, qualche idea che ci possa servire, no? Quello sarà bello. Ecco, c'è lì. Non è una domanda. Credo che rinfrescare un pochino le nostre menti di che cosa siamo qua. Ce l'hanno detto due giorni fa e anche ieri. Ma è lei che ci ha invitato, mi sbaglio? Cardinale. Allora, lei rompa i ghiacci e poi noi ci buttiamo dentro. Comunque, vediamo se ci sono altre. Ci sono altre. Prego, laggiù c'è un'altra. Si dice il nome, la profe è questo. Ma è non una domanda, ma una proposta. Per me, la posizione. La Luci. Guardate, ragazzi. I know that, by the end of the synagogue, usually we are consulted about the possibility topic for the next synagogue. I wonder if we can proclaim that instead of giving this topic to the study group, to propose it to be the topic for the next synagogue. Like, you know, special questions on the ordained ministry. I meant to add special questions including the possibility of opening the ordained presbyterate to dates special questions related to the ordained ministry thank you if you think it would be useful to bring attention here good afternoon if I make the question first in castellano and then in English to translate being present in the meeting of the group 5 the other day I think there was a general question that I thought I had not received a good answer that is until now that is that that is understood that the way of proceeding of the group 5 is by natural different from the other group of study by being directly in castellano but a lot of people did not understand why it is necessary to work like this and if it is possible to work like this in a way more synodal you said in the meeting the other day that we could know a little bit more of who are going to be working on the topic the rostros and the nombres I don't think that could be useful I've just asked saying that it seemed to me from the other day that many people wanted to know why group 5 was proceeding in a way that was different from the other study groups and so I'm inviting the cardinal to explain a bit why and also he did say that he would let us know a little bit about who will be working in the group names and faces so I was inviting him to share that with us thank you well and there is no I say I will I will as in the synodal I don't know what I have I will the procedure I will propose to it on the next theme I will not my own but variety I will um any things which I will in the impact the people Il tema del ruolo delle donne nelle Chiese, pensando anche a delle possibilità ministeriali, era un tema affidato al di Castero, prima della richiesta del Sinodo. Poi appare la necessità al Sinodo di approfondire questo. Allora la conclusione era che invece di fare due gruppi diversi rimaneva al di Castero, ma ascoltando il Sinodo e in dialogo con il segretario del Sinodo. E così l'abbiamo fatto. Ogni tanto ci siamo riuniti con il Cardinal Grech per ascoltare le preoccupazioni. Nel caso del di Castero non è un gruppo di cinque, sei persone, è tutto il di Castero che lavora. E se si arriva a un documento e si porta al Santo Padre e lui approva, diventa Magistero ordinario, come un documento fatto dal Papa. Allora ha un valore molto particolare quel testo, no? Le persone, chi sono le persone? Il primo momento, che è molto importante, si chiama consulta. E il di Castero ha un gruppo grande di consultori e consultrici. Un gruppo grande. Noi abbiamo tutti i consultori la possibilità di inviare proposte. E dopo abbiamo inviato alle donne di questa consulta, le consultrici, abbiamo inviato alle donne una richiesta speciale di partecipare più attivamente, no? Di scrivere, fare delle proposte, eccetera. Se avete bisogno... Do you need the translation in English? Yes. Do. Do. Okay. So I'll do the translation in English in summary form. So to the first question, His Eminence replied regarding the Synod and the possibility of taking on the theme as a future Synod. He said, well, that would be something that would need to be resolved within the structures of the Synod itself in terms of proposals for future themes. Regarding Group 5, His Eminence said that the theme of this particular theme was given to the Dicasteri before the Synod, sometime before the Synod. And so the Dicasteri had already begun to undertake study and work on this particular theme a good time ago. And when it arose in the Synod, it looked as if there might be two different groups working on it. And rather than having two groups, it was unified Dicasteri already had that was working on it in that sense. As the prefect mentioned in that sense, that what happened when it was a change that the group from the Dicasteri would spend more time paying attention to all the contributions coming from the Synod, listening to all the different feedback. And so in that sense, it sought to interface with what was coming from the Synod. In that sense, His Eminence said it's different than the other groups insofar as it's not just a group of five to ten experts, but it is the entire Dicasteri. And when the document goes to the Holy Father for approval, that document becomes from our Dicasteri part of the Holy Father's ordinary magisterium. And so therefore, the documents of this Dicasteri carry different weight and therefore have a different procedure for following. So He asked, who are these people that are part of the working group? He explained the different processes and first to understand all the people that are involved. He said there's first to understand the largest, a very large group of consulters, which are published in the bulletino. You can see the names. And His Eminence said in a very special way, invitations are sent out to the women who are consulters for the Dicasteri to take an extra active part in this process. That's where he left off before I started the translation. I consultori li trovate perché sono stati nominati tutti i nomi. Tempo fa sono stati nominati altri 28 consultori nuovi e quello è stato pubblicato. I consultori, vi dico alcuni nomi per fare veloce, no? Maurizio Gronchi, Piero Coda, Dario Vitali, Maurizio Fagioni, sua eminenza Ghirlanda, Stella Morra, Nuria Calduch-Venaces, Michelina Tenace, Benedetta Rossi, Donatella Avignente, Claudia Leal Luna, Sandra Mazzolini, Ignazia Siviglia, Maurizio Chiodi, Aristide Fumagalli, Juan Manuel Granado Rojas, Mario Bracci, eccetera. Questi sono alcuni dei nomi. Quando loro rispondono, se si vede che c'è una basse sufficiente per lavorare, si incomincia a lavorare con quel materiale. Se si vede che ancora manca, si invia una nuova lettera chiedendo di sviluppo alcuni temi poco lavorati, temi che hanno bisogno di un nuovo sviluppo. Si chiede di nuovo a diversi consultori. Ci sono donne, certo che in questo tema sono le più importanti, ma ad esempio il Cardinal Ghirlanda ha studiato molto bene un tema che qua sarebbe importantissimo. Il tema è la differenza tra ordine sacro e potestà, cioè che l'ordine sacro e la potestà non sono necessariamente collegati. E questo è un tema molto importante per sviluppare la questione dei laici, che possono avere anche un'autorità, una missione di guida nelle comunità. E in questo caso Ghirlanda non è una donna, ma veramente può essere di molto aiuto in questo tema. Quando c'è questa base, si può fare anche un'assemblea con i consultori. Possono essere chiamati al di Castero una giornata e si fa un'assemblea, generalmente si fa i lunedì, che è un giorno fisso di assemblea. So his eminence said that in terms of the consultors, just to give a little bit more visibility about the consultors, he mentioned that in the bulletino recently, there was published the names of 28 new consultors. You can go in and look at the names as well. His eminence highlighted in a number of the different names, professors, professors throughout the world, women, men, lay, religious. You'll see, if you look at the list of consultors, it's pretty widely represented. And he mentioned that each of them have something to offer. The Dicastery is looking to get their expertise and their experience in this particular way. And he said the general procedures of the Dicastery is that when they send their responses, all these different consultors and experts, then the Dicastery considers it very, very carefully. And if there's enough of a basis to work, to go forward, then the Dicastery can move forward. But if there's not, if it seems that consultors are not in agreement or if there's not enough basis to move forward, then the Dicastery goes back to the consultors, perhaps changes the question or specifies things a little bit more, until finally there is enough to move forward with the ordinary process. He mentioned that part of the, one of the consultors of note in this particular process, he mentioned his Cardinal Gerlanda, a Jesuit Cardinal, who's a canonist. He mentioned that he had done a lot of work on the question of the relationship between holy orders and authority, canonical authority and power, canonical power, potestas. And in particular, understanding the ability to take the leadership of a community and having ecclesiastical authority and the ways of envisioning this even perhaps outside of holy orders. And so his work could be helpful for the Dicastery in this particular moment. And then he mentioned that when there is enough of a basis, when in fact the consultors are sufficient, then in fact we move forward to have an assembly, a kind of a meeting of those different consultors where they bring their opinions and have debate, and then we move forward with that. Usually those are on Mondays. Poi altri partecipanti sono i Cardinali e Vescovi dell'Assemblea Ordinaria. Questi Vescovi e Cardinali sono consultati all'inizio, alla metà del lavoro o alla fine, dipende. In questo caso sono stati riuniti prima per ascoltarli, no? Due volte. Abbiamo fatto due assemblee ordinarie con loro e loro sono ad esempio il Cardinal Schoenborn, il Cardinal Vescovo Fisichella, il Vescovo Bruno Forte, il Cardinal Guggerotti. Poco fa sono stati nominati il Cardinal José Tolentino de Mendoza e il Cardinale Semeraro e sicuramente si aggiungeranno alcuni altri dopo il prossimo consistoro, no? Con loro la riunione è di solito il mercoledì, per quello si chiama Feria Quarta, che è il mercoledì, no? E loro sono già stati ascoltati, come ho detto, due volte. Poi tra i superiori del di Castero ci sono io, ma il lavoro è coordinato dal segretario dottrinale Armando Matteo, col capufficio Riccardo Bollatti, no? E poi ci sono gli ufficiali, ma i nomi degli ufficiali non li do, perché loro mandano le lettere, fanno un riassunto di un libro, traducono un testo, no? Eccetera, eccetera, e loro sono impiegati del di Castero, no? Per quello mi sembra che non è necessario dare quei nomi. Questo sui membri, ma sulle procedure, dopo il lavoro della consulta, quando c'è abbastanza materiale, no? Si fa un riassunto con i temi più importanti e si fanno i chiamati congressi, che sono riunioni dove si vota anche, no? Si fanno delle votazioni per andare avanti. Sempre mettono la colpa a me su qualsiasi documento, come potete sapere se leggete le notizie, ma non è che io scrivo quello che mi piace e faccio da solo, no? C'è una procedura che, secondo me, è abbastanza sinodale in se stessa, no? So, his eminence mentioned that beyond the consulters, all diacasteries have members, and the members have an important voice in the hope workings of the diacasterie, and team members are cardinals, bishops, and many others as well. He said there's already two different assemblies, there's two different meetings where these members of the diacasterie have had already an opportunity to give their feedback, there will be others as well, and these cardinals, therefore, are already involved with the work, have been feeding back from their own experience as well. Then it comes opportunities for what we call a feria quarta, which means this Wednesday, and then a certain Wednesday there's meetings where the members come back together and there's further discussion and further meetings. So, that's in addition to consulters, these are the members of the diacasterie. Beyond that, his eminence spoke of the superiors of the diacasterie. Those are those who are there every day, the real leadership of the diacasterie in-house. In addition to his eminence, he mentioned that the person who's really taking the lead on the document is the secretary for the doctrinal section, Monsignor Armando Matteo, and then there's also a capoficio who oversees the officials. The officials, he said, just do a lot of the kind of everyday work, office work. You know, they're not really the ones, but effectively the superiors are the ones who really take the leadership. And then after that, in-house, there are these congressi where things are discussed and voted on, and his eminence mentioned that whenever something comes from the diacasterie in general, when it carries the diacasterie name, he's the one who carries the responsibility for it. So, he said, if you don't like a document, whatever we say, he takes the blame for it because it's the responsibility of the diacasterie, etc. It's not just something he writes on his own will, but it's something that comes to the diacasterie. And he said, according to him, he feels that this whole process is really quite a bit synodal in certain ways. Un punto importante della feria quarta, l'assemblea ordinaria, è che lì ci sono vescovi da diverse parti del mondo che hanno una visione diversa d'accordo col contesto culturale, no? Ad esempio, di Australia, del Brasile, di Sudan, di Ghana, no? E di diversi paesi. In questo caso, la nostra idea è fare una consultazione ancora più ampia, no? e chiedere il parere di persone, ad esempio delle associazioni religiose o di istituti che stanno lavorando per il empowerment dei laici, no? Che hanno già un'esperienza e un lavoro fatto, eccetera. Cioè vogliamo fare anche una consultazione più aperta ed è in questo punto dove i membri del sinodo possono anche inviare un lavoro fatto da loro o da altre persone che conoscono e che possano aiutare, no? As I mentioned in this particular case, it's notable that the DICAS-TRIE really wants to have an even wider consultation process involving both persons and institutions, organizations that have been involved or that are interested in the theme. As I mentioned in a special way, institutions or groups that are interested in empowerment of the laiti, who have done a lot of thought and writing on this theme, che sarebbe benvenuto a ricevere da loro feedback quindi il feedback può essere da loro o da altri ha detto in particolare che i miei membri del synod sono particolarmente invitati a dare feedback e che potrebbero mandare il feedback a la dicasteria per essere parte di questo processo consultativo scusate se la mia risposta è stata troppo lunga ma mi pare che era necessario per capire un po' meglio come si lavora continuiamo prego lì c'è una persona arriva il microfono un attimo ecco grazie dal Belgio ascoltando i particolari che ci ha esposti sul funzionamento del suo dicastero voglio però tornare sul legame di questi equip che lavorano intorno a lei con il tema dell'impegno delle donne nella chiesa e in particolare sulla questione delle ordinazioni eventuali di donne per il diaconato o il presbiterato due riflessioni e una terza le due prime sono relative alla composizione e dall'altra parte alle tematiche la composizione sentendo la composizione dei suoi collaboratori c'è una maggioranza, una stramaggioranza di italiani capisco che essendo tutti qui a Roma è più facile consultare un romano ma questo pone una domanda di fondo che merita essere presa sul serio perché l'abbiamo visto anche nello svolgimento del processo sinodale c'è una forte presenza italiana che non favorisce diciamo l'espressione perché è già numericamente importante di altre aree non solo linguistiche ma culturali seconda riflessione a partire di questa composizione anche se ci sono numerosissimi collaboratori non sono convinto che tutti anzi forse solo una maggioranza conoscono queste questioni più specifiche dell'ordinazione dell'ordinazione al diaconato o al presbiterato episcopato in relazione con le questioni delle donne è vero ha citato il cardinale Ghirlanda ma questo è un tema con esso su di cui altri tra di noi hanno già lavorato e penso che non c'è da discutere su questa questione e piuttosto sul fatto dell'ordo stesso e non solo l'eventuale partecipazione vicaria o delegata alla giurisdizione ecco quindi sono due questioni che mi vengono la composizione e le tematiche non sono convinto che molti tra i suoi collaboratori conoscono questo tema ecco quindi vorrei alcuni chiarimenti il momento è per il futuro anche perché se si continua avanti in questo modo non penso che si possa sentire altre voci su questi temi su di cui molti di noi hanno già scritto quindi investigato e pubblicato grazie grazie c'era un'altra domanda lì grazie 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 I'm a Jesuit and the dean of the Jesuit School of Theology of Santa Clara University. I have submitted two documents, proposals to address to the Cardinal. I have one comment and a question. I'm sorry if I'm repeating something that's been said already because I'm handicapped because of the language. But earlier on, I thought I heard that in terms of the composition of the group that works on this question, it is representative of the entire church, the global church. And yet when I look at the list of 28 consultants, most of them are Italian priests. And there are six women, two religious, two lay, and four, two laymen. I am sure, maybe I'm reading the names incorrectly or their provenances. I don't think I've seen anybody from Africa or Madagascar represented in this group of consultants. So the idea that it is consultative and representative leaves me a little bit concerned, given the fact that this was supposed to proceed synodally. Now to my question, which relates to the comment, the statement you made on the first working day of the synod. You said, and I'm quoting, based on the analysis conducted so far, which also takes into account the work done by the two commissions established by Pope Francis on the female diaconate, the dicastery judges that there is still no room for a positive decision by the magisterium regarding the access of women to the diaconate, end of quote. Is that phrase, the dicastery judges, that caught my attention. And I believe that in making that judgment, you must have seen evidence, heard testimonies. And so I'm asking myself, what evidence, what testimony, what material elements have been available? And do these include outcomes of the two study commissions, which maybe you are a privy to? And then on the 18th of, on the 19th of October, you also made a statement in the aula. And what struck me very strongly was the use of the term maturation, maturation. That this theme is not mature enough. And I like fruits. I eat a lot of fruits. And when I keep fruits to ripen and mature, I look for signs. The change in color, maybe the aroma, maybe the texture. So my question is, what are those signs, those norms, those principles that we should be looking for, that you are looking for, to really judge that, yes, now is the time that we can say this is mature. Because if we don't have those principles, norms, and signs, we could be doing this for the rest of our lives. Thank you. 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 grande e non è facile raccogliere quelle testimonianze più ampie perché il nostro lavoro sia universale. Per questo tema concreto, la consultazione, si fa molto più aperta. Molto più aperta. Sì, in particolare, in particolare, la dicastra è molto intenziale. about opening up, opening up to all people, really wanting to make a very wide consultation to be able to hear different experiences and to take it into consideration. It's mentioned that in particular what comes to his mind is the experience in the Amazon and the sin in the Amazon, how that helped to bring to the four models of leadership and pastoral realities that in particular are very close to his eminence's heart. He wanted to mention that women leading communities and so in that way that he sought to reach out and get their input or for those who are in connection with them, their input, to see the reality, the concrete reality on the ground. He said that Archbishop Stein in Brazil has been helpful for him on this regard. He knows that there are different realities in Africa and Indonesia and other places and this particular way therefore, these realities you can't find in books and realities that might be different from our European realities, really the Acastry is seeking to be intentional in reaching out and seeking input and that's just a call again for all to send their input in from all over. And on the subject of the Diaconate, first I have to say that the main purpose of this group, let's say, is the subject of the role of women in the Church. non è il Diaconate, perché? Perché in realtà il materiale che è arrivato nella consultazione del Sinodo chiedeva soprattutto lavorare molto sul ruolo delle donne nella Chiesa. Il Diaconate era un tema che veniva fuori da alcune parti ma non era il tema grosso, no? Allora il tema principale del nostro lavoro è il ruolo delle donne nella Chiesa. E a questo punto dovrei dire che io stesso prima di arrivare qua al di Castello sono stato parroco di periferia e poi vescovo di una diocesi. e lì ho ascoltato tantissime donne che hanno rimproveri contro la Chiesa e che vogliono una possibilità più chiara di partecipazione, no? che alle volte non si sentono nemmeno ascoltate, che sono come serve dal parroco, eccetera, eccetera. Posso dire che queste voci vengono da tante parti, penso alle donne teologhe che in alcuni posti del mondo non hanno possibilità di sviluppo né vera libertà di lavoro teologico. Alle donne che hanno grandissime capacità per liderare processi comunitari, che hanno grandi donne per guidare comunità, per coordinare grandi iniziative missionari, ma non trovano un posto perché vita è roba da maschi, no? O alle donne che hanno una grande capacità di consiglio, non dico di ascolto, di consiglio, di guida spirituale come il migliore dei consulenti o direttore spirituale, ma che non sono accettate perché non hanno l'ordine sacro. Penso alle laiche di tutte le culture che chiedono alla Chiesa uno spazio maggiore e che non chiedono il diaconato, chiedono una possibilità di avere autorità, di essere ascoltate, di poter sviluppare i loro carismi e le loro capacità. Da questo punto di vista si vede la necessità di fare dei passi molto concreti sul ruolo delle donne nella Chiesa e la maggior parte di loro non chiedono né vogliono il diaconato che per loro sarebbe anche ingombrante per il loro lavoro laicale con la libertà che questo lavoro presuppone, no? Dico da questo punto di vista il nostro lavoro è soprattutto cercare di andare avanti con passi molto concreti sul ruolo delle donne nella Chiesa, piuttosto che sul diaconato. Come ho detto sul diaconato c'è ancora vigente quella commissione del Cardinal Petrocchi che ha già convocato i membri per i prossimi mesi con l'idea di ricevere materiali, opinioni e suggerimenti per riprendere il lavoro della commissione con più forza, diciamo, con più energia e decisione, ascoltando quello che possa venire dal sinodo e dal mondo. Sulla questione... ...sa in the first part regarding the work of the Dicastri and Dicastri's work, he said that when the theme was given to the Dicastri, the focus is on the role of women in the Church and he mentioned that that was really the major focus and he said that that is exactly what arrived in the Synod was asking for that attention to the role of women in the Church, focusing on increasing that role of women in the Church and he mentioned that the role of the Dicastri, the question of the Dicastri came out later, but the major theme is the question of the role of women in the Church. He mentioned his experience when he was first a pastor, then bishop, then archbishop, before coming here, he heard the experiences of women who said they feel not heard and the experiences of women who said that they feel like they were servants of the parish and feeling that they weren't able to express themselves or to undertake the roles that they could take in the Church or theologians who felt that they were constrained in their work and these experiences stay with him. He said that really the work of the Dicastri here is to highlight that, the great capacity for the women to take on these leadership and mission roles, to be able to highlight that, to be able to those who perhaps have great ability to do spiritual direction but are not accepted as spiritual directors because they're not ordained. And so as Eminence said that this is really a major preoccupation and focus of the Dicastri. He mentioned that a lot of the women are not seeking diaconate. He said, in fact, that they're seeking to develop their faculties and serving as laywomen. So this is the theme that he's focusing on in this particular group. So in this sense, really that's the focus here. He mentioned in the second group, Cardinal Petrochi, who had had the study commission, that that has been now reestablished and it's been revived. And so the question of the diaconate and women's access to the diaconate is being treated with that study commission. And so just to keep that clear, that study commission has new energy and new force and is willing and ready to receive the feedback from the Synod for their work. Su questa linea di lavoro stiamo già ricevendo molte proposte. Quello che dicevo prima sull'Amazonia è una realtà perché parecchie persone mi hanno già parlato e mi hanno promesso di inviare un materiale molto interessante. Poi mi è arrivata ad esempio una lettera di un cardinale molto classico che dice che mi sembra che sarebbe necessario istituire un ministero per le donne con un ricco contenuto di compiti e di funzioni e che sia istituito con un segno rituale ben visibile eccetera eccetera. Poi una suora mi ha scritto «L'autorità è associata al ministero ordinato, di conseguenza clericale e maschile. E' cruciale chiarire in quali ambiti nella Chiesa l'autorità e la leadership scaturiscano dal ministero ordinato e quali invece no». I compiti e le funzioni di guida non richiedono il ministero ordinato quanto competenze specifiche e attitudini personali. Tale approfondimento ci aiuterà ad essere una Chiesa più sinodale. Sono solo esempi di tante lettere e materiali che sono arrivate in questi giorni dove vogliono lavorare in questa linea, via di lavoro che sembra di avere un certo consenso in diversi settori. Essendoci questo consenso è più facile andare avanti, è più facile riuscire a dare alcuni passi concreti. As Eminence mentioned that already we've received some very helpful feedback from helping the work of the Dicastery, one of which was from a Cardinal who wanted to talk about certain forms of ministry, new forms of ministry that he had wanted to propose that were concrete for women to take on in the Church, and another from a sister who wanted to clarify or that she offered the idea that we should clarify what comes from Holy Orders and what kind of authority can be given to a person apart from Holy Orders that involves the leadership in the Church. And she mentioned that there's a lot of people who are very capable of undertaking leadership who are not in Holy Orders but are very competent women, and she wanted to highlight that and to encourage the Dicastery to develop that theme further. Questa espressione che il tema del diaconato per le donne non è maturo per prendere oggi una decisione, questa è una frase del Papa, non mia, no? e per quello lui non vuole chiudere la questione del diaconato, no? Dice si può ancora studiare con pazienza, senza ossessione, senza fretta, si può continuare a studiare e questo è molto importante, ma lui pensa che le cose non sono ancora mature. lui certo ha ricevuto qualche materiale dalle commissioni, le commissioni che ci sono state e che continuano, e le conclusioni poi le faremo pubbliche dando anche forse i voti, no? alcuni dettagli, ma le conclusioni sono più o meno queste, no? che le cose non sono assolutamente chiare, no? che non possono adesso concludere. più o meno, quella è la conclusione parziale. ma si continua a lavorare e se arriva un materiale che è presente delle novità, quello aiuterà ad andare avanti su questo tema. ma anche se io non ho studiato questo materiale delle due commissioni, no? ho visto qualcosa, no? o con il poco tempo che avevo ho spiato un po' qualcosa di questo materiale. ci sono da una parte gli studi storici e lì c'è una discussione, no? c'è chi afferma che in certi casi sono state ordinate di... c'è un'altra opinione di storici altrettanto rispettabili che dice che non è stata veramente, non è stata veramente un'ordinazione, che era una cerimonia di benedizione, eccetera, e tra gli storici ci sono questi diversi pareri. adesso io vi domando se si scopre che c'era in altri secoli, c'erano in altri secoli donne che predicavano nella Messa e non erano ordinate questo vale di meno? se si scopre che c'erano donne con una grande autorità sulle comunità e anche su una regione della Chiesa, del pianeta, no? un'autorità che non l'avevano nemmeno i preti questa informazione vale meno se non erano state ordinate? se erano laiche, vale meno? e qua capisco quando il Papa dice di non clericalizzare come si dice in italiano? non clericalizzare se non erano ordinate vale meno? o ci aiuta ancora di più a pensare all'empowerment dei laici? e per questo pensiamo che c'è una via principale quella del posto delle donne nella Chiesa e una via secondaria che ha la sua importanza ma non è il centro che è quella del diaconato sì? so regarding the quotation of it but not being a mature theme as is the quotation from his eminence at the beginning of the synod he said that's not from him that's a quote of the Holy Father that he was quoting the Holy Father saying that and he said in particularly that way Pope Francis so as not to close the theme to say you could study it more go ahead but study it without fret without certainly in an atmosphere of tranquility but the Holy Father said the time is not mature that's the phrase that Cardinal Fernandez is citing and certainly he said the Holy Father would be saying this receiving the information from the study commissions which will be published in due course he said but this is the general conclusion of the study commissions his eminence said that it's not entirely clear the situation that's not time mature yet to make a decision he said that he's also had a chance to review it although not as profoundly as he'd like he was going to review it more but he wanted to say from what his review of it he saw that yes there are some experts who say that women were ordained and there are some experts who say that in fact there was not a real ordination it was a blessing he said so he sees divergence among experts in the matter but he asked himself he said reviewing the material if it turns out that in history there's women who preached but they were not ordained does it count for less? he said if there were women who led a church and had authority and had an authority that even the priest didn't have if they weren't ordained does it count for less? so he said this is leading us back to what Pope Francis says about not seeking to clericalize that was what he was saying to not clericalize to think about the empowerment of the laity and the themes that can help us appreciate the power that the laity have with leading the church and then there's a discussion and there's a discussion teologica there are two lines that are different one that insiste that the ordination is not to sacerdotium that is to minister and that that opens a possibility of the aconato female one other line that insiste on the unity of the sacrament that are not are three gradi that that is a single sacrament and from this point of view it does not accept the aconato female I will make a a very quick so quick because there is no time but these two ways still they have to aprofund the proposal and especially to enter in dialogue not as happened in the controversia of Auxilis sulla grazia no dove si condannavano mutuamente o si trattavano di scemi di stupidi no ma ci deve essere la possibilità di ascoltarsi e di discutere penso che la commissione che studia il liaconato potrebbe essere aiutata dalla commissione teologica internazionale l'accademia di teologia altre organizzazioni facoltà eccetera organizzando alcuni congressi o convegni per incontrarsi e discutere un po' di più se mi domandate la mia opinione personale la posso dare come teologo non come prefetto ricordate che lo faceva pure Ratzinger ogni tanto diceva qualcosa e chiariva non come prefetto come credo che i fondamenti per il no al diaconato femminile sono ragionevoli ma non sono sufficienti i fondamenti per il no le ragioni per il sì non bastano ancora per rispondere ai pareri negativi con questa opinione sincera non accontento nessuno mi danno da destra e da sinistra i conservatori diranno è uno scemo che non ha capito che è impossibile ordinare diaconese che è contrario ai dogmi alla tradizione eccetera i progressisti diranno che non ho capito che non c'è niente di logico o ragionevole nel rifiuto all'ordinazione che è solo un fissismo medievale eccetera ma invece sono molto convinto che non possiamo aspettare per dare passi chiari in avanti per un empowerment delle donne nella chiesa distinguendo quello che è assolutamente inseparabile di quello che non lo è in questo punto invece credo che dobbiamo già andare avanti senza aspettare questa è l'idea del lavoro di questo gruppo 5 ah eminence mentioned that there's in the theological side ci sono poi altre due domande lì e lì ok ok c'è la prima traduzione fa la traduzione lui aspettiamo un attimo grazie, vi faccio la traduzione qui as I'm going to mention from the theological side you mentioned that of course in terms of the opinions that come in from the theological side there would be some of course who say that this would historically not be an ordination to the sacerdotium but to the ministerium and so therefore it could be open to women and he said there's other theological opinions that would say no holy orders are just one sacrament and therefore it couldn't be open to women so he sees that there's already a theological debate that's quite profound there and he said that this kind of controversy doesn't need to be like the de auxilii's controversy where there's recriminations and condemnations et cetera this is something that can be studied and therefore the study diaconate commission will move with its work in studying the question and it could be perhaps helped with the international theological commission and there might be meetings and congresses and other kinds of things to discuss it he said as his own opinion as a theologian not as the prefect he said I'm speaking now as the theologian private theologian as the prefect he said his opinion is that the basis for the the no has is reasonable but perhaps is not sufficient to respond to the questions and to the the desires and the basis for the sea is not sufficient that yes the basis for the yes is not sufficient for responding to the opinions that have come in in other words that there's not a sufficient basis for one answer or the other he said well this is not going to make really anyone happy ultimately but that's where we're at right now he said but this doesn't block us or stop us from moving forward with studying of course in our own work in the dicastery the theme of the empowerment of the laity and that's where we're at with the question from this side of things moving forward with studying the empowerment of the laity my name is Trisha Bruce and I'm a sociologist and consulter to the general secretariat thank you for your time today among the many studies that I have done personally on the church particularly in the U.S. context studies on parishes movements and the like I and my team have interviewed more than a hundred women who have themselves served the church in various roles that were available to them outside of ordination in order to meet the needs of their communities inside those interviews you hear deep accounts of an inability to meet the existing roles that are available to them because they encounter priests or bishops who are not amenable to their service in the church or parishes that don't offer context that enable them to do the work that they are doing and the work that they are called to do they face constraints they feel they get creative and sometimes they change context in order to meet the needs of the church the reason I mention this too is because when I hear that the emphasis comes so strongly on roles and pathways on roles and empowerment I wonder too about what structures and what pathways can also be offered so that even existing roles for women can in fact be fulfilled which is more than about just women one last piece of this to add in addition to the interviews that I've done with women I led the qualitative portion of the National Study of the Catholic Priesthood in the U.S. context 104 interviews with priests we asked a similar question across the interviews with women and the interviews with men that question being what advice would you give to a younger counterpart on the same path from men in the priesthood one of the happiest professions of course lots of burnout and struggle therein but the advice was generally follow go do I will help you discern I will support you I will build you up this is the happiest possible most meaningful life you can pursue from women who had activated their call in the context of the church the advice they gave sometimes was run away brace yourself find a community to support you so as this group moves towards looking what the roles of women are in the church I would advise a special emphasis on building up structures of support such that women can in fact live into the very roles that they're called and hope that that too would be a product of this work thank you can I speak french have a translation I can try to express you can have a translation to me that will help us who could translate father costa you want to talk about it you want to talk about it you want to talk about it Eminence je vous remercie beaucoup pour les clarifications précieuses que vous avez donné et en particulier je voudrais intervenir sur trois ou quatre points le premier serait celui de la consultation que vous souhaitez de plus en plus large et ceci est extrêmement heureux mais j'ai une question c'est celle-ci c'est que c'est toujours l'autorité qui choisit ses experts et quelqu'un une des composantes importantes de la vie de l'église m'a paru absente de ce que vous avez suggéré et qui améliorait peut-être un peu les choses à savoir que pour éviter ce soupçon que la vérité ne soit la vérité de l'autorité mais que ce soit l'autorité de la vérité qui marche est-ce que ça marche je n'arrive pas à traduire si et je vous remercie innanzitutto et voudrais faire quelques questions sur quelques points que vous avez soulevé c'est innanzitutto celle de la consultation se ne rallegra que ce soit cette consultation mais on se demande pour quel motivo c'est toujours l'autorité qui choisit qui consulte et in questo in questa categorie consultate manca manca una categoria la categoria de la teologie de la faculté de la teologie potrebbe être anche un des protagonistes de la questione à savoir que lorsqu'on a besoin de spécialistes pour que ce soit le spécialiste celui qui détient l'autorité il y a 30 facultés de théologie à travers le monde nous avons une question précise comme l'ordination des chrétiennes au diaconat quels sont les spécialistes que vous avez chez vous et on leur donne une réponse structurelle et votre congregation reste libre de choisir parmi les experts proposés ceux qui ont été proposés vous restez entièrement libre mais je crois que ça allégerait beaucoup les choses et je vais en conclure trois points le premier je ne suis pas certaine d'avoir entièrement entièrement saisi entièrement saisi bisognerebbe consultare anche ci sono almeno una trentina di centri di facoltà teologiche nel mondo si il y a une question précise je prends une question à l'ordre du jour si c'est une question précise ou une question à l'ordre du jour l'ordination des chrétiennes comme diaconat ou comme diacre avez-vous des spécialistes dans votre faculté envoyez-nous les noms de vos specialist alors si c'est une question précise comme l'ordination et la congrégation reste libre de choisir entre eux la congrégation rimane libera il dicastero suppongo libera de scegliere fra di loro ça faciliterait beaucoup la tension actuelle entre teologie et magisterie faciliterait beaucoup la tensione attuale fra teologia et magistero je donne des exemples précis pour n'être pas abstrait je suis un étudiant du futur cardinal amer qui a été secrétaire de la congrégation de la foi lorsqu'il était dans cette position il a consulté la commission biblique pontificale qui est composé d'exégete la confiance du saint siège est connue pour leur science et dunque lui dice che il vostro segretario che è stato segretario del dicastero ha consultato delle commissioni bibliche esegesti composta di eségeti competenti e che hanno la fiducia e che hanno la fiducia il risultato nell'anno 1971 è stato quello che hanno concludo che se non si obieziona nessuna obiezione nel Nuovo Testamento che non si può decidere di questa questione sul fondamento del Nuovo Testamento era una questione teologica in sé e dunque questa non non ne ho bisogno di tradire e dunque la soluzione è stata che questa consultazione non ha avuto mai stato mai è la jame il il non ha avuto mai il luogo no volta è la il 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 ma offiziellement non ha mai il ha avuto il luogo si svolta ma ufficialmente no è un esempio estremo ma ci sono sospetti che somigliano a questo e j'en tirai 3 conclusion che sono suggerimenti che m'autorizzo a fare bien che n'ai aucun titolo a le fare la prima sugestione che ammigliore le cose è premièrement il ne s'agit pas dell'ordinazione delle donne il s'agit dell'ordinazione delle chrétiennes baptisées e tutta la confusione viene che la question del femminismo la confusione nous donnons de l'importance exagerée au femminisme en parlant constamment dell'ordinazione des femmes e non dell'ordinazione des chrétiennes ce sono due question chrétiennes problema viene dal fatto che diamo troppa importanza influenzati dal femminismo alle donne ma in realtà non si tratta di ordinazione di donne ma di cristiane battezzate si deuxième suggestion secondo suggerimento le teologiennes la corporazione teologica dovrebbe avere abbastanza saggezza che non non entra nelle questioni pastorali ciò che può essere chiaro in teologia può essere una questione molto difficile in pastorale e in particolare per l'ordinazione delle donne a causa delle differenze di culture molto importanti la nostra dà importanza alle donne non per razioni morali non siamo migliori che i nostri pèr la nostra dà molta importanza alle donne non per motivi morali non siamo migliori dei nostri padri ma si trova che dei cambiament social progetto della medicina l'instruzione dei cambiamenti sociali i progressi della medicina e il lavoro salariato delle donne riponerato le rapport tra uomini e donne hanno cambiato e il rapporto tra uomini e donne sono cambiati bisogna vivere cristianamente questo cambiamento chiedere chiedere di essere breve anche per dare la possibilità ad altri terreni proposizione bene sulla consultazione lei dice che è l'autorità che decide sia da tranquillo è l'autorità che decide a chi consulta ma in questo caso devo dire che ci sono tante iniziative non so se che succede devo dire che ci sono tante iniziative che arrivano senza averle chieste che sono sicuro che come quelle che sono arrivate arriveranno tantissime e davo l'esempio dell'Amazzonia che immediatamente si sono organizzati per inviare materiale per aiutarci a capire cose che noi non capiamo in questo caso penso che c'è una distinzione se si parla sul diaconato è fondamentale la riflessione teologica e sono d'accordo che bisogna consultare le facoltà di teologie soprattutto le donne che ci sono nelle facoltà di teologie quando si parla sul tema più ampio del posto delle donne nella chiesa non bastano le teologhe abbiamo bisogno di ascoltare le esperienze che forse non sono state ancora tematizzate teologicamente ma che sono luogo teologico sono luogo teologico come esperienza vitale e pastorale e che ha tanto da dirci allora secondo me questa ampiezza della consultazione per il tema del diaconato va riferita specialmente alle teologhe certamente ma sul tema del ruolo delle donne nella chiesa deve essere ancora più ampia e rispettare le buone esperienze che ci sono nel mondo d'altra parte sono d'accordo che ci sono tanti temi collegati alla questione in questo senso domandavano dietro sulle strutture esistenti perché anche se si prendono decisioni le strutture esistenti lo stile clericale impedisce di andare avanti fatto l'altro giorno alcuni esempi no ad esempio la possibilità del ministero catechistico che poteva essere un ministero molto più ampio invece le conferenze episcopali non hanno scelto questa via che era possibile non l'hanno accolta alcune ma che percentuale è nel mondo l'1% se arriva no allora c'era una possibilità ma lo stile della chiesa la struttura clericale non permette che le possibilità che si aprono possano svilupparsi e questo è un altro problema che dobbiamo affrontare no e come questo ci sono altri temi che non sono diciamo direttamente pratici no ma che sono importanti ad esempio da smontare è quello che si dice spesso nella chiesa sulla natura femminile che le donne hanno un proprio genio e che questo genio è la dolcezza la vicinanza e queste caratteristiche questi stereotipi di donna tanto all'uomo che quello forte che decide che va avanti no questo veramente molto forte nella chiesa e lo dobbiamo smontare allora la riflessione deve anche farsi carico di questi problemi che ci chiedono uno sviluppo diverso non solo arrivare a conclusioni molto pratiche che ci vogliono no ma anche smontare questi problemi teologici culturali eccetera sapete che una delle vie sviluppate dai teologi è quella baltassariana sulla dimensione mariana della chiesa no ci sono tanti teologi che ancora insistono adesso hanno cambiato il nome e dicono la dimensione carismatica della chiesa questa riflessione è andata avanti verso una direzione che non fa possibile dare dei passi concreti no c'è qualcosa che si possa accogliere penso di sì l'idea che i ministeri non sono una decisione del vescovo che sceglie un'amica per un posto importante ma che c'è una necessità nella comunità e c'è in alcune persone un dono già esistente che risponde a quella necessità dobbiamo stare attenti a questo aspetto per non creare una struttura che alla fine continua a dipendere dall'autorità do solo questi esempi perché penso che la questione delle donne della chiesa esige sviluppare diverse vie di riflessione sono so sorry just have to go back to the notes and find where we left off last okay very good okay so thank you so regarding the first question he said that regarding authority and choosing consultory that many initiatives come and arrive in the dicastery but without concrete proposals oftentimes and practical steps to take and so he wanted to make a distinction here, keeping it concrete he said, you know, if the question were about the diaconate, in writing this is a question about theological faculties the involvement of theological faculties, he said if it's a question about the diaconate and that he said, well, of course the theology would be very fundamental and important and it would be very important, of course, to have consultation with women theologians and theological faculties he said, yes the question that, of course, as mentioned before, the dicaster he's working on is that wider question, the question of the role of women in the church and the empowerment of the laity he said, yes, while theology, of course in the theological faculties are important here that it's not sufficient he said, it's not sufficient because also we have to take account of and hear the people in the world, the concrete experience of people on the ground in the parishes who are actually out doing it, so the theological faculties, he said, for this question we're working on, wouldn't be sufficient. The locus theologicus, the place of theological reflection in the local ground level is something that is very much to be taken into account and so this wider question is what he said what we're focusing on. Regarding the second question regarding the structures of support and the dynamics that would support women in taking on leadership in the church, Cardinal said that very much seeing clericalism is still something that's out there that we have to approach and to dismantle that, of course, because it prohibits people from taking on these leadership roles, especially women taking on leadership roles is something we have to move ahead with. He mentioned that there are proposals that were mentioned he mentioned, I think, on Monday in his intervention concrete proposals that were given to the Episcopal conferences for giving that allowing that taking on more leadership in the church concrete proposals, he said but about 1% of bishops' conferences have actually welcomed these proposals and so he said that this is something that really has to be has to be done and further developed. He mentioned there are other things that have to be attitudes have to be dismantled such as the perception that women are weak and men are strong and various other themes need to be developed. I'll just summarize it. So regarding the question he said there's a perception of the charismatic dimension of the church in this he said there's a lot more there to reflect on that element of the charismatic dimension of the church and I'm making a summary now of a lot of things and therefore we're seeking to respond to this and to develop this aspect in ways that don't that allow people to take on these leadership roles that are not blocked by these structures that would say oh you need more authority et cetera and so this certainly merits more reflection and development. there are two commissiones the last on the diaconate are the of the doctrine of the faith because the Holy Father has taken as said this theme and has done these two commissiones that are outside of the group 5 sia alla commissione sul diaconate se ci arriva a noi qualcosa col diaconate la possiamo leggere perché alle volte ci sono aspetti che possono servirci no e la passeremo poi alla commissione c'è un'ultima domanda no c'è su minenza nemet c'era giù ah non lo so lui ecco ah ok allora prima 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 chiedo eminenza prego si vuole prendere posto no soy eminenza ha tato la mano antes ascoltiamo cristina e poi il cardenale chiudiamo stava maria luisa antes del cardenale lo siento bueno no lo siento has dicho y si averiguamos que hay mujeres que predicaban no no sería más importante has nombrado a unas personas que están trabajando en esta comisión y que evidentemente son expertos en teologia me extraña que entre ellos no haya ninguno che sepa che existieron che están documentadas che están publicadas e che se estudian en algunas facultades de teologia fueron mujeres che non solo predicaban acompañaban e sentaron las bases de la pastoral penitenciaria de la pastoral de educación de la pastoral hospitalaria mi pregunta es che me parece que es un juego muy poco limpio eso por una parte si estáis interesados os puedo hacer llegar la información sobre estas mujeres para que veáis que están documentadas solidamente eso por una parte no disculpa te aclaro voglio chiarir que le persone consultate la maggior parte non ha ancora risposto non sarebbe strano che arrivassero questi esempi vale despues estáis haciendo una reflexión muy sólida muy teórica pero habéis considerado la posibilidad de hablar con alguna mujer que ha hecho un proceso de discernimiento vocacional y tiene realmente vocación al diaconado vamos a dejarlo al ministerio vamos a dejarlo al ministerio y luego por otra parte me parece que es un poquito no es que no a ver quiero decirlo de una manera un poco un poco suave me parece que es un poquito bueno lo siento vamos a decirlo directamente cuando comunicáis perdón pero comunicáis muy mal que este problema lo ha creado el dicasterio con esa forma de explicarse con esa forma de decir nosotras no veníamos con ningún ninguna idea preconcebida pero nos encontramos con una manifestación que además de empezar con una línea que cortaba el resto el papa ha decidido que por lo tanto el resto sobraba nos hemos encontrado con que habéis utilizado a una serie de mujeres que yo no sé quién ha redactado el texto pero manifiesta un profundo desconocimiento de lo que han hecho precisamente esas mujeres en la historia de la iglesia e es muy triste porque una vez más es la manipulación de las mujeres a través de otras figuras femeninas y eso sinceramente creo que es un problema muy grave y después ya con esto termino quizás a lo mejor si la cuestión teológica no es en este momento una gran ventaja ser diácono o diaconisa en la iglesia porque lo que hace falta solucionar es la realidad de un modelo ministerial que está agotadísimo en todas sus funciones maneras y formas y quizás mientras eso se va solucionando abordar desde el bautismo otros tipos de ministerio que resolverían muchos problemas lógicos ¿por qué no hacéis eso? ¿por qué no abrís posibilidades en vez de centraros solo en el diaconado sí o diaconado no? esa es mi pregunta bueno soy de acuerdo con lo que has dicho estoy de acuerdo Cristina con lo que has dicho no es que tenemos una idea distinta de trabajo es esa que has dicho ahora al final que la propuesta que ha dicho ella en la fin es digamos la vía principale de trabajo no? forse luego vengen fuori otras pero es esa y hay razón que esa lista de mujeres que he dado no? no no era no era sviluppata c'erano casi como tú stessa me ha dicho del de garde de wengen que ha dado un paso muy importante en la historia liberando los monastos femeninos del poder maschile no? que no lo he dicho en aquel momento pero es que es un punto para aprovechar y aprofondir y ahora tú soy María Elvisa Berzosa una religiosa española de la congregación hijas de Jesús de espiritualidad ignaciana educadora no soy teóloga no soy canonista soy me dedico a acompañamiento espiritual a dar ejercicios acompaño muchas personas y estoy vinculada a colectivos de diversidad sexual a mujeres abusadas bueno es el campo en que me muevo declaro aquí públicamente que no tengo vocación de diaconisa no 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 me siento llamada en esta iglesia a ser diaconisa pero si que me gustaría que siguiéramos profundizando el diaconado femenino el sacerdocio femenino porque no sabemos donde el espíritu nos va a llevar no le pongamos trabas no le pongamos barreras sigamos avanzando escuchando los signos de la vida mujeres varones lo que sucede en nuestro mundo porque ahí está el espíritu hablando verdad y me gusta lo que habéis puesto en el documento que nos leísteis a propósito de las mujeres etcétera dice de ahí pueden venir nuevas formas de ministerialidad en grado de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia entre evangelio y gaudium me gustaría que avanzáramos por ahí que no solamente nos dediquemos al diaconado femenino o ministerio sacerdotal sino porque estos días y es la segunda vez que participo en la asamblea sinodal he percibido cuánto marca en la iglesia el sacramento del orden cuánto marca ¿no? estamos ordenadas sacramentalmente nos sentimos fuera ¿no? entonces también me gusta poner no es al mismo nivel pero es como anecdótico de lo que estamos viviendo en el proceso ¿no? yo ayer estaba en mi grupo de facilitadora fuimos votando toda la comisión que se nombra para ayudar al papa etcétera todo obispos y arzobispos entonces dije yo en mi mesa sí con cara de ingenua es muy llamativo este nombramiento ¿no? y claro alguno me dijo el sinodo de obispos digo ya se ha roto porque yo estoy aquí y no soy obispo eso no es así podemos entrar a compartir espacios también de trabajo también en dicasterios también en comisiones si no compartimos casi ni en la iglesia si estamos separados estamos en las mesas retondas y cuando vamos a la iglesia nos separamos y no podemos comulgar el cuerpo y la sangre ¿qué significa eso? ¿no? digo no lo pongo al nivel del diaconado femenino pero son signos que podían hacerse de otra manera y así leemos que hay una dignidad bautismal hay una común vocación que nos unifica y nos hace unas relaciones más horizontales más de hermanas y hermanos muchas gracias gracias l'ultima signor Cardinal grazie moltísimo vorrei come prima ringraziarla per esserci venuto per fare questo incontro l'ultima volta ci mancava molto la sua presenza adesso sono molto lieto e grazie nel nome penso di tutti che siamo qua e anche le sue risposte e pensieri ci hanno in qualche maniera assicurati che il lavoro va anche se con difficoltà però nella direzione giusta e dopo anche sentiremo sui risultati volevo dire alcune cose lei è già la seconda volta menzionato che le conferenze episcopali non hanno risposto alla richiesta dei accoliti lettori e catechisti io lavoro nella chiesa da 50 anni quando ho cominciato coscientemente a lavorare 50 anni fa noi abbiamo avuto queste donne già significa che adesso di nuovo dobbiamo aspettare 50 anni che il di Castero e il Vaticano non lo so il Papa vedrà che siamo in ritardo 50 anni la prima domanda la seconda io rispetto molto le donne che non vogliono diventare preti o diaconi però diamo a tutte le donne la possibilità di scegliere questo è il problema la terza cosa quella dimensione mariana di cui si parla tanto citerei un testo di San Pietro San Pietro scrivendo una volta nelle lettere nelle una delle sue lettere scrive su un Paolo San Paolo ha dei pensieri difficilissimi io non li capisco e molti non lo capiscono cioè non è per tutti grazie grazie Eminenza bene voglio dire sinceramente che abbiamo bisogno di ricevere idee proposte perché noi tentiamo di interpretare i bisogni e le possibilità che intravedono le donne ma non sono nella loro carne no allora abbiamo bisogno di capire dove possiamo andare in questi cammini concreti di empowerment delle donne no e per quello abbiamo veramente bisogno di aiuto di proposte concrete che ci portino avanti no a dare dei veri passi in avanti quello che ho sentito oggi per me è stato molto molto interessante aprire un po' la testa ad altre idee io non sono famoso nella chiesa per essere un medievale chiuso no allora potete stare tranquilli che ho il cuore aperto per vedere dove ci porta lo spirito santo e andiamo avanti tante grazie grazie hopefully everyone will applaud again after the english so we'll do the translation in english as well so he said just concretely to conclude he said really we'd like to we'd have need to receive the proposals from everyone absolute need the dicastery needs us to receive the proposals concrete proposals other ideas to understand where we can go from here understanding the work of the dicastery and moving ahead we need help he said so please assist us and send in your proposals he said that he found this evening to be very very interesting and he said he's not known for being a closed person but rather he's in person with an open heart ready to receive all the proposals and considering them and he wanted to thank everyone again for their presence and to sincerely wish everyone to know that your proposals will be received and read and taken into consideration the dicastery so please thank you appreciate it so thank you for to